Dagli autori di Il Rimpatrio e dai produttori di Le mie prigioni dorate. Ci siamo riusciti! Otto messi! Italiani in fuga! Gli interessi che ho in Italia sono parecchi e quindi devo necessariamente rientrare. Io ho del lavoro in Italia, ho affetti. Uno spaccato di connazionali che fanno ritorno all'amata casa. Ma stai scappando anche tu? Sì, sì, ma perché? Hai lasciato un conto al 7 to 7? Bravo, bravo. Siete arrivati troppo tardi, volevate scappare anche voi? No, noi abbiamo controllato tutti quelli che sono andati via. Italiani in fuga, prossimamente su Teleesule. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao!